Per idratare la tua pelle scopri la più dolce delle sorprese. Nuovo ultradolce corpo, creato per te da Garnier. Il primo latte idratante ultradolce, oli meravigliosi. Una ricetta ultradelicata con ingredienti di origine naturale. Olio d'argan per nutrire a fondo la pelle. E olio di camelia per renderla morbida e setosa. Intensamente idratata, mai unta, la pelle più dolce, naturalmente bella e dall'aspetto sano. Nuovo ultradolce corpo, la dolcezza prende corpo. Garnier